Ciao a tutti ragazzi, sono N1001, oggi ci troviamo su Robocraft Ho intenzione oggi di far vedere questo robottino piccolissimo Che è capace di volare in modo velocissimo Guardate, lo coloriamo, aspettate, lo coloro di blu Non so il motivo, anzino arancione, facciamolo Ecco, adesso si, molto meglio per me Adesso andiamo a dire tende nella battaglia a combattere Siete pronti ragazzi? Io sì Come al solito speriamo che non sarà lento Oh, che fortuna Già su War Thunder l'ho fatto in 3 secondi rispetto a 30 E' stato fortunato, anche qua che era di media un minuto in 10 secondi massimo Che fortuna Allora non importa in che ma passiamo Qua dove c'è questa grande astronave gigantesca, è caduta Sarà che come capitano era un ubriacone e non sapeva come guidare Il mio robottino è quasi imprendibile Perché è così piccolo Che poi il cannone spara velocissimo 2000 colpi al secondo No, non esageriamo Adesso ve lo faccio vedere in battaglia Se gli altri caricano Sono così lenti, faccio il mio internet Ok, siamo qui in battaglia Guardate questo robot Un mech corazzato Aspetta se mi alzo Ecco, così non sbatto sopra questi qua Vieni qua Vieni qua, adesso ti distruggo Spara 2000 colpi a secondi In più colpisce nel punto esatto Ecco qua Lo vedete, lo vedete Spara velocissimo Adesso distruggo anche l'altro Se questo qua si sposta Maledetto Robarmi le kill sono bravissimi Adesso morirai Sì, adesso tu mori Adesso tu mori Adesso tu mori Dai No, 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 no Ci manca poco a mi robarmi le kill No, ma attualmente Sono arrivato a tre uccisioni Adesso tu mori Adesso tu mori Adesso tu mori Che è questo qua che mi è passato davanti Levati Erano in due Vabbè Niente è successo Dobbiamo andare più veloci Dobbiamo vincere in due secondi Non riesco a colperlo Quanti cannoni che ha questo caramato Vabbè Caramato Non so come sovrannominare il suo robot Il mio L'ho chiamato UFO Oggetto non identificato Adesso tu mori Che sei sceso Muori, 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 muori Dai che ci manca poco No Non deve salire Non deve scappare Tu devi morire Sì Ci manca poco No Mi ha rubato la kill E ti pareva Dopo tantissima fatica Adesso non ci riuscirà più a colpirmi Mi sono messo qua vicino Adesso lui muore I mari mi rubano le kill Ogni volta ha un fastidio Vieni qua che ti distruggo Ogni volta questo povero aereo Viene distrutto Un secondi Ecco qua L'ho distrutto Ma chi è c'è Forse sono tutti nello stesso team Con lo stesso aereo Siamo nella loro base In talmente siamo forti Mori, 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 mori No mi sta scappando Mi sta scappando Mi sta scappando No adesso È rimasto incastrato Eh un altro ucciso Rimango qui a camperare No sta scappando Vieni qua Vieni qua che ti distruggo Dai Tranquillo Sarà una morte veloce Mi è rimasto incastrato Ai 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 Eh però non ne fa pochi danni Per fortuna ho gli scudi Per fortuna ragazzi Questa qua è stata una battaglia Velocissima Tra l'altro grazie a questo UFO Questo oggetto non identificato Che ho creato Proprio è stato fortissimo Con questo cannone Sparava in 2000 colpi a secondo Sarò io a segnare la vittoria Sarò io E no non sono stato io No niente succede Abbiamo vinto Grazie al mio Devo dargli un nome Vabbè Prima di dargli un nome Apriamo queste cassette Questa Queste casse Che ci offrano Grazie Generale Almeno ci offrono Delle casse Dopo una lunga battaglia Diamante Dai Abbiamo Abbiamo trovato Una ruota gigantesca E Che cos'è La bidella No biella Diagonale 3D Certo che era 3D Perché voleva in 2D Non lo so Allora Lo chiamiamo Insetto Per le sue dimensioni piccole Pieno di blocchi Ma è pienissimo Quanti sono Sette contati Questi qua Che permettono di volare Anche se vanno a colpire Tutti quanti Sicuramente volerà In un modo o nell'altro Poi questi scudi Proteggevano i colpi Che è successo Proteggevano i colpi E poi questo cannone Che ci dava giù dentro Prendendo la mira Automaticamente Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Per questo insetto Per forza Devo chiamarlo così E lasciate un mi piace Iscrivetevi Attivando La campanella E ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao